Litoranea Dante Alighieri. Il fondo stradale in un particolare punto proprio di fronte al Lido AC Lifestyle Beach, già Lido Paradiso, è devastato. Non riusciamo a trovare altra definizione per una buca estremamente pericolosa. Profonda, più di una decina di centimetri, e con i bordi affilati e taglienti, in grado di spaccare le gomme delle auto degli sventurati che vi finissero dentro, con una ruota. Per fortuna la buca è leggermente defilata rispetto alle traiettorie delle automobili. Una vera e propria trincea da fuoristrada, piuttosto che una semplice buca sul manto stradale. A bordo strada, sotto il marciapiedi, i pezzi del fondo stradale che si è letteralmente sbriciolato. Non è un fenomeno nuovo, né sconosciuto, già riscontrato in altre arterie cittadine. In quel punto probabilmente sono stati fatti dei lavori o forse un semplice rappezzo. Invece di impiegare dell'asfalto, a caldo o a freddo a poca importanza, è stato utilizzato del cemento. Ora, come noto, il cemento è un materiale anelastico, quindi soggetto a subire vibrazioni e compressioni. E ciò può andar bene quando il cemento si sviluppa in maniera omogenea, in larghezza e lunghezza. Ma quando il cemento viene accostato all'asfalto, che è invece per sua natura un materiale elastico e in grado di garantire anche un minimo di drenaggio, accade che i punti di giunzione tra i due materiali, progressivamente, si allontanino l'uno dall'altro. Se poi si aggiunge che l'acqua piovana, progressivamente, si infiltra nelle spaccature e nelle venature dei punti di giunzione, accelerando lo sfaldamento, la buca è presto creata. Il risultato è quello che vedete, un problema per gli automobilisti, un pericolo per moto e ciclomotori, una trappola mortale se dovesse piovere.